Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo controller Necon per PC, Xbox One e Xbox Series che potete acquistare su Amazon ad un costo abbastanza contenuto, al di sotto delle 100€, a differenza di altri controller Necon che hanno un costo un po' più elevato. Ovviamente il costo non è uguale alla qualità, nel senso che non è che magari solo perché questo controller costa al di sotto delle 100€ non è buono anzi è davvero ottimo. C'è solo una cosa che mi fa un po' storcere il naso ma ovviamente si tratta di una preferenza personale il fatto che gli stick analogici siano lisci al tatto. Io personalmente preferisco stick analogici ruvidi invece questi sono veramente liscissimi. Ho amato tantissimo la croce direzionale in questo modo perché mi ha ricordato i controller Nintendo che appunto diciamo offrono la possibilità di accedere a varie operazioni, a varie azioni in gioco molto più diciamo velocemente e in maniera intuitiva. Quindi diciamo premendo poi questi tasti potete facilmente e tranquillamente eseguire varie azioni. È davvero fantastica come croce direzionale. Il controller presenta i tasti della Xbox Series come potete vedere c'è addirittura lo share che vi permette di catturare screenshot e video. Quindi potete utilizzarlo su Xbox One, Xbox Series S e X. Quindi è un controller adatto a tutto anche PC. Il controller presenta chiaramente i dorsali posteriori. Abbiamo quelli superiori che sono diciamo estremamente comodi e morbidi da premere e poi abbiamo i dorsali posteriori. Questi qui che praticamente ne sono leggermente duri ma leggermente non ci farete caso. Ho amato la possibilità di mappare tutti i pulsanti del controller tramite l'applicazione ufficiale da scaricare dal Microsoft Store naturalmente nel caso del PC. Su Xbox il discorso è differente. Il controller ovviamente presenta l'ingresso per le cuffie e supporta del Dolby Atmos. Quindi se avete l'applicazione ufficiale e acquistata sulla console potete collegare le cuffie e usufruire dell'audio 3D o comunque delle ultime tecnologie per quanto riguarda il comparto audio. Insomma è un controller compatto comodo da utilizzare e da impugnare per lunghe sessioni con cavo. Quindi non è wireless. Non avrete la frustrazione che il controller sia scaricato e quindi dovete ricaricarlo. È un hardware davvero eccezionale. Personalmente sono rimasto soddisfatto ad eccezione degli stick analogici che come vi ho detto sono lisci. Però per il resto funziona perfettamente come un controller ufficiale Xbox quindi non ci sono magari problemi di vario tipo o perlomeno io non li ho riscontrati. Quindi se siete interessati all'acquisto di questo controller che vi comunico perché l'ho dimenticato è liscio e rubido nella parte posteriore potete diciamo acquistarlo su Amazon.